Per il primo turno dei play-off Under 15 di Elite si affrontano al campo di Via Candiani. La nuova Tour 3 Test per una di casa, qualificata anche in caso di pareggio al termine supplementari, è l'Accademia Calcio Roma, giunta terza, che cerca assolutamente la vittoria per il passaggio del turno. Si parte e dal diciottesimo del primo tempo arriva il golo del vantaggio dei padroni di casa. Lo mette a segno Pingaro, che sui sviluppi di un calcio d'angolo trova il tempo giusto per battere il portiere avversario e portare i suoi in vantaggio per una rete a zero. Tour 3 Test che sblocca l'incontro nel primo tempo. Ecco l'esultanza, parte del numero 6 della formazione di mister Contaldo. C'è l'occasione anche per raddoppiare qualche istante più tardi. Qui il colpo di test da parte di Bisceglia con la parata del portiere avversario. Poi però sul calcio di punizione arriva il golo del 2-0, lo mette a segno Rongione. Palla centrale ma sotto la traversa e il golo del raddoppio della Tour 3 Test che si porta così sul 2-0 nella ripresa. C'è il palo colpito da Borri in apertura, poi non accade più nulla con la Tour 3 Test che batte l'Accademia Calcio Roma per 2-0 e vola in semifinale l'Under 15 Elite dove troverà di fronte a sé mercoledì prossimo l'Urbe Tevere di Pasquale Barba. Grazie. Grazie.